Bene amici, tutto ciò dell'incredibile, mi è appena arrivato un comunicato dagli amici di Blog Sicilia dove Rosario Crocetta, il nostro presidente della regione, il nostro si fa per dire, lancia uno spot sul megafono e quindi si ripresenta a noi siciliani da Catania alle Ciminiere per un nuovo progetto che chiama L'Orgoio Siciliano. Ma guardate un po' che cosa dice il grande Rosario Lo Spardiero, eccolo qua. 130 a Catania alle Ciminiere, vi raccomando tutti insieme per il nuovo slaggio della Sicilia e per affermare la grande comunità del popolo siciliano. Dico, rileggiamo bene il testo di questo spot, il megafono organizza l'orgoglio siciliano per la difesa dello statuto, per la dignità, per il lavoro e lo sviluppo, per dare un nuovo sdlancio alla Sicilia. Quindi Rosario Crocetta ci invita tutti sabato 14 novembre alle Ciminiere alle 10.30. Cioè signore, statuto, lavoro, sviluppo, sdlancio, dignità dei siciliani. Io dico che ci vuole dignità a lanciare uno spot dietro il mare di Tusa o forse qualche altro mare con un video tagliato e spezzettato in nove parti. E soprattutto lui non sa che c***o gli scappa dalla bocca. Orgoglio siciliano.